Questi anni vissuti da calciatore e anche non hanno rappresentato qualcosa di molto importante sul piano umano ma la cosa ancora più incredibile è il fatto che nel tempo io sento ancora forte questo legame, questa voglia di tornare ogni tanto a Santa Colomba a trovare gli amici, a vedere la città, è un po' come tornare a casa. Grazie per la visione!